Baroni in carta Vanoli, ottima Lazio a Torino, gioca bene, vince convincendo e si riporta in alto in classifica. Stiamo ancora a settembre per qualche giorno, ma oggi la Lazio dà un segnale importante secondo me al campionato perché questa partita era per assurdo anche più complicata di Firenze. Era un esame importante, terza trasferta consecutiva, due vittorie, una sconfitta. E diciamo che comunque in questo primo mese e mezzo di Serie A, Baroni personalmente per le aspettative che avevo, mi sta stupendo. Però prima di parlarne iscrivetevi, like e commento qui sotto che è fondamentale. Detto questo, allora, una Lazio oggi che ha fatto secondo me una buona partita, ha giocato bene, ha vinto bene perché comunque la partita secondo me non è stata praticamente mai in discussione. subito, pronti via e golasso di Gendusi, ma soprattutto per me, mi sbilancio più del 50% del gol, è di Nuno Tavares che fa un qualcosa di clamoroso, fa un assist ma fa una progressione. Tavares a me ricorda, ora è un paragone un po' particolare, però a me ricorda uno Jordan Lukaku molto più tecnico. è veramente un armadio su due ruote su quella fascia e comunque tecnicamente è forte. Ha fatto quattro assist in quattro partite di Serie A nelle prime giornate che ha giocato. Secondo me è abbastanza clamoroso ragazzi, è abbastanza clamoroso perché è un terzino che comunque è decisivo e non è facile trovarne uno. Ecco, Di Marco, Teo Hernandez in periodi un po' migliori di quello che sta vivendo ultimamente, sono terzini decisivi ma poi ce ne stanno pochi altri e così tanto decisivi e incisivi anche. Nella partita ce ne sono ben pochi. A me piace, ve l'ho detto che io su di lui puntavo parecchio, mi convinceva, mi piaceva ed ero straconvinto che avrebbe fatto bene in Serie A perché è un campionato che si adatta alle sue caratteristiche, a differenza invece della Premier in cui ha faticato sempre, dalla primissima esperienza all'Arsenal. Che cos'altro? Oggi fa un'ottima partita che indusì, che mi sta piacendo in questo avvio di campionato con Baroni, gioca bene anche Zaccagni che invece non mi stava convincendo, invece oggi ho visto un diverso Zaccagni, un Zaccagni diciamo più propositivo, più dentro il match e più da numero 10. È stato caricato di responsabilità, secondo me ha un po' sofferto questa prima parte di campionato, oggi l'ho visto bene e il secondo gol, quello di Dià, è anche grazie alla magia che si è inventato. Lo stesso Dià che invece non reputava un grande acquisto ma non perché Dià fosse scarso, vi ho sempre detto anche nei video dell'anno scorso, dell'anno prima della Salernitana che Dià a livello tecnico per me non si discute, è un giocatore tecnicamente forte, è forte. Però non vedevo bene Dià in questa Lazio, mi spiego. Dià, cioè, avendo già Castellanos io avrei preso un bomber di razza, avrei preso ora, per dirne uno, il primo che mi è venuto in mente, Mauro Icardi, se il Gala fosse stato disposto a un prestito, ad una cessione, per dirne uno, ma non è Icardi in sé, è diciamo il numero 9 che ti fa gol, perché come centravanti più mobile hai già Castellanos e quindi magari un bomber, un finalizzatore ti poteva fare più comodo. Ora Dià sta convivendo con Castellanos, oggi per esempio ha giocato sottopunta, no? Trequartista e mi è piaciuto, mi è piaciuto, devo essere sincero, ha fatto una buona partita al di là del gol, al di là del gol che conta, sì, molto anche, però conta in un certo senso relativamente, ha fatto una ottima, una ottima partita. Quindi, e poi soprattutto vanno dati meriti a Baroni che, a parte quello che può piacere e non piacere, per carità, però è riuscito e sta riuscendo in questo momento, è ancora presto per dirlo in maniera definitiva, però sta riuscendo a farli convivere, a farli giocare bene tutti quanti insieme. Non era scontato che una squadra che ha cambiato molto perché, comunque, ha elevato alla fase offensiva. Luis Alberto, Felipe Anderson e Immobile, tutti quanti in un colpo solo, non era facile comunque ricominciare bene, partire bene, integrando tutti questi nuovi giocatori, perché anche fra panchina e titolari, la Lazio comunque, in quella fase, in quella zona di campo, ha cambiato parecchio. Nuno Tavares, che per me è praticamente un esterno offensivo per lo strapotere fisico che mette in campo. Hai preso Chouna, hai preso delle Bashirou, giochi molto spesso se non sempre con D.A., comunque hai cambiato parecchio lì davanti. Noslin, che oggi fa anche gol, cioè hai cambiato parecchio e comunque riescono a convivere bene. Lo stesso Noslin a me piace molto e penso, sono straconvinto su di lui, che farà molto bene quest'anno e che da gennaio in poi, soprattutto, dopo una prima fase di ambientamento, che per lui sarà più lenta rispetto a quanto lo è stato per D.A., dopo quella prima fase in cui comunque non sta facendo bene, tolta la follia di Hamburgo di mercoledì sera, che francamente non mi spiego, tolta questa fase potrà fare molto bene in campionato perché è un giocatore forte. Lui comunque è forte, è giovane, è promettente e secondo me con baroni, ma già si è visto a Verona, può fare molto molto bene. Che cos'altro dirvi ragazzi? Il Toro comunque oggi non mi è piaciuto, sono sincero, un po', un po' per demeriti propri, un bel po' secondo me per meriti invece degli avversari, della Lazio che vi ripeto non ha permesso al Toro di giocare come sa giocare, ha incartato, vi ripeto, secondo me comunque Baroni ha incartato Vanoli, quindi non era scontato che la Lazio riuscisse a vincere a Torino, ce l'ha fatta e ce l'ha fatta anche abbastanza bene, vi ripeto, al di là poi del risultato esatto finale, i due gol nel recupero per carità, però la Lazio non è secondo me mai stata insicura di vincere questa partita, dall'inizio alla fine, poi sì il Toro in due momenti ha riaperto il match, però non ho mai visto la Lazio tra virgolette in sofferenza, la Lazio con la vittoria in discussione, almeno personalmente, quindi bravo Baroni, bravo Baroni, poco altro da dire, la Lazio comunque tanto criticata alla fine è in mezzo al marasma delle big che occupano i primi posti della classifica, perché la Lazio in questo momento è a meno due dalla Juventus prima, ha perso punti, la Lazio così come la Juve, così come l'Inter, così come il Milan, tutte quante le big hanno perso punti e tutte quante stanno lì, appiccicate, è un campionato secondo me questo qua molto molto strano, perché ci sono tante coppe, perché c'è il mondiale per club e perché anche le grandi grandi, penso all'Inter, non stanno facendo così tanto bene, l'Inter personalmente mi sta deludendo, quindi potrebbe uscire anche qualche sorpresa, vedremo, vedremo però vi devo dire, dopo un mese e mezzo è poco, se considerato l'arco temporale dei nove mesi di campionato diciamo, è poco un mese e mezzo, quasi niente, però in questo mese e mezzo, che doveva essere un mese e mezzo molto complicato, perché è il primo mese e mezzo, Baroni mi sta piacendo, mi sta piacendo al di là dell'aspetto comunicativo, per esempio mi è piaciuta la difesa di Noslin dopo la partita con la Dinamo, però mi sta piacendo soprattutto a livello tattico, comunque la Lazio riesce a giocare bene e riesce anche oggi ad adattarsi all'avversario non permettendo al Toro di giocare come sa giocare e come ha giocato in queste ultime settimane, Vanoli sta facendo un ottimo lavoro, però oggi comunque la partita a scacchi, per me la stravinta a Baroni e con questo passo e chiudo, iscrivetevi, like e commento qui sotto che è fondamentale e noi ovviamente ci vediamo dopo con il post partita di Roma-Venezia, ciao ragazzi!